Putin dichiara guerra all'Ucraina dicendo di volerla denazificare e noi gli crediamo, dopo tutto mica il suo governo che ha deciso di arrestare migliaia di persone scese in piazza, tra cui anche l'ultima superstite della battaglia di Stalingrado, semplicemente perché erano contro la guerra. Noi gli crediamo, perché non è stato il suo governo ad ingannare giovani uomini tra i 18 e i 20 anni dicendo loro sconfinati in Ucraina perché è una semplice esercitazione, mentre invece li stava mandando a morire in guerra. Noi gli crediamo, perché non è stato il suo governo ad ordinare di bombardare scuole, ospedali e popolazione civile. Noi gli crediamo, perché non è stato il suo governo ad ordinare di portare forni crematori portatili con cui cancellare la traccia dei soldati russi caduti in guerra e non gonfiare il numero delle perdite. Noi ti crediamo, caro Putin, ma secondo me se vuoi denazificare il mondo dovresti utilizzare il metodo Eva Adolfo, pillola di cianuro e proiettile in testa funziona al 100% garantito.